Come avviene che? Cerchio K attraverso Marco a cura di VB domanda Come avviene che certe entità hanno maggiori conoscenze che addirittura conoscono i passi spirituali percorsi da ognuno di noi? Entità Emanuel, caro, è come chiedere che cosa ne sa l'assoluto del mio nome? Lo sa perché è assoluto? Domanda, vorrei sapere come ciò avviene tecnicamente? Entità Emanuel, diciamo che quando voi fate qualcosa a tutti i livelli richiamate delle energie e quindi muovete delle cause le quali, essendo nell'assoluto contenuto e trasceso il tutto vengono sentite in tutte le parti di esso Così ogni azione in ogni piano di esistenza viene percepita dalle entità di una certa evoluzione come se accadesse nel loro piano di esistenza come se accadesse nel loro piano di esistenza